Pronto? Sono Fabio, ci siamo già sentiti due anni fa, non ti ricordi? Pronto? 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 Mi senti? Pronto? Ecco, non ti ricordi due anni fa io e te ci siamo conosciuti? Mi avevo offerto una sigaretta, poi io te l'ho chiesto un numero, non l'ho mai cancellato. Sì, davvero? Non ti ricordi? Eravamo, eravamo, allora tu hai in Duomo con due tue amiche e un ragazzo. Io ti sono venuto a chiedere una sigaretta e poi ho detto, ma mi lasci? Non so, me ne dà. Matteo, scusate, Matteo, mi viene il tuo nome, tra esse. No, no. Aspetta. No, davvero, non mi viene in mente. Ah, no. Oddio. No, meglio. Chi è? Beh, mi hai offerto una sigaretta a Milano. Ma no, ma non l'hai lasciata a me, l'hai lasciata a una mia amica. Eh sì. Elena, non te la ricordi? Dionda bassa, occhi verdi. Sì. Non ho capito. Non ho capito. Tu, ah no, tu eri con due amiche e un ragazzo. Io ero con... Sì, due ragazze erano. Non lo so. E io... Scusa? Ecco, tu eri con due amiche e un ragazzo. E tu, ovviamente. E io ero con questa mia amica, bionda, bassa, Elena, con occhi verdi. Ma io voglio che ti ricordi me, no, la ragazza con gli occhi verdi. Cioè... Ma gliel'hai lasciato perché era molto bella. Come? Non ho capito. No, sono un suo migliore amico. Eh, però non so come dirtelo. E chi ho detto, ma sgamato. Ma porca. Chiave, non potete stare più tamperato con gli occhi. Sì. Vi! Sì. 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 DINALO! Grazie a tutti